Sono Francesco Tinivelli, venditore della concessionaria Volkswagen Autocentri Giustozzi. In questo breve video parleremo della gamma metano e dei suoi eco-incentivi. E noi di Autocentri Giustozzi abbiamo aggiunto una promozione dedicata puramente alla gamma metano. Come per esempio Nuova Polo, con motore 1000 TGI da 90 CV di nuova generazione che offre ottime prestazioni riducendo notevolmente i consumi. La nostra promozione ti permette di ottenere un extra bonus di 1000 euro che sommato all'eco-incentivo statale ti consente di guidare Nuova Polo a 149 euro al mese sfruttando il tasso agevolato del nostro finanziamento progetto Valore Volkswagen. Non ti resta che venire a trovarci in salone per scoprire l'ampia gamma di colori e modelli disponibili in pronta consegna. Puoi venirci a trovare a Perugia, Terni o Foligno oppure visitare il nostro sito web giustoziauto.com o scriverci al numero Whatsapp. Volkswagen